cennaro merdona no dai non c'è niente grazie ma lol dai questo ero io da vicino lo spam di l2 non è che va tanto bene ma l'hanno sistemato il matchmaking o si trova ancora bocca a 3 giorni no ma era una domanda che non l'ho letta manco io eh ma lui è il poker no eh legge non è una domanda che non aveva leggera abbiamo le macchine per farmi tutto ma lo dobbiamo pure leggera questo è quello che voglio dire il mondo è un nuovo guardia 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 da se determinata si chiama duo l2 questa quindi già retta mi help e le due devi morire subito perché non voti me di che ti prende l'impulso e cose belle qual la Pistola scusami Cioè Armi che una non l'ho mai usata L'altra non l'ho mai usata Fai impulso più nei Quella revolver No Finite del impulso Finito il divertimento C'è neva C'est un job of a mess T'es ma je vais essayer de me rattraper Oh mais tu voles tellement haut en fait En vrai tu te rattrape j'ai pris 0 de gare C'est lourd Mais du coup je peux rien faire Merde j'ai volé de siki Ah mon aim Oh j'ai pas d'arbre de loin Attends il y a un mec là Salut ton pote Il est là Oh tu mets 85 c'est quoi ce jeu Ouais genre tu mets gros damage Allez pique moi Oh il a un HP Oh le reflex Oh c'est trop bien Oh mais gros What the fuck Genre Eh il n'entraîne se fait qu'un Genre le mec il m'a tiré dessus Il m'a fait tomber Je tiro au sol Je suis pas mort Ah qua c'era la pistola nuova La prendo va Justo per faire una prova Oh mio dio Ma prendo danno da caduta così oddio non lo faccio mai più Pamp qui eh Ti lascio lootare tutto a te Vado a prendere le palle e comincio a romare in giro io Doesn't have a first bullet accuracy zone It's gotta be yikes Oh my god dude Oh my god Are you kidding me I'm so dead Please don't have anyone Just think that I'm dead I'm so dead Oh my god Oh my god You just got outplayed Oh my god You really gotta step up your game dude Listen That was it That was my one Step up the game No Jordan You're good I was concerned for a second I just hit Oh Where is he? Oh my god Oh my god Did you do it? No It was still just his neck Alright I'm set now So if you're falling I got a watch pad You know If you don't have redeploy Use the new gun Before you hit the ground Oh 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 Jordan did you drop that? No Oh no Easy Easy heating up Broken Broker that went through her Ok, touche, touche, touche. Well played, 200 ike play there. No damage taken, good. No, I didn't want to do anything. Is it white? No, it's white. Ok, champion. No. No. No, I didn't want to do anything. I didn't want to do anything. I didn't want to do anything. I did not do anything. I didn't want to do anything. I didn't want to do anything. I didn't want to do anything. No, I didn't want to do anything. I didn't want to do anything. Alla via così Grazie per la visione in confusione totale dio santo non dovete parlare con me rispira profondamente fai e poi butta giù cosa ho capito che hai il controllo però calma un joystick non so se è di te che stavi corriendo diritto per diritto o questo c'era un po stavo corriendo un po